Ingredienti 5 tuorli d'uovo, 70 grammi di stevia, niente di zucchero. Unire la stevia con le uova. Ho messo solo 70 grammi perché la stevia ha un rapporto di 1 a 3, nel senso un cucchino di stevia, sono come 3 cucchini di zucchero. E' un problema. E' un problema. E' un problema. E' un problema. ora si presenta così mettere tutto il composto in una sac à poche facciamo le forme che ci piacciono e poi infornare per due ore forno ventilato a 100 gradi in questo caso mettere l'amore Grazie a tutti. Grazie a tutti.